Ormai da mesi proseguono i lavori degli operai del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano Tanagro che già dallo scorso mese di giugno, con l'inizio delle giornate di sole, hanno dato il via alle operazioni di pulizia dei canali affluenti del fiume Tanagro. 11 comuni del Vallo di Diano interessati dai lavori, 6 interventi a Teggiano, 5 a Sala Consilina, 8 interventi ciascuno per i comuni di Sassano, Atena Lucana e Montesano, 6 a Polla e Buonabitacolo, 4 a Padula, 2 a San Rufo, San Pietro al Tanagro e San Tarsenio. 36 in totale i canali su cui gli operai sono già intervenuti con operazioni di pulizia finalizzate a favorire un maggiore deflusso dell'acqua e ad impedire che, in vista della stagione delle piogge, possano trasformarsi in un pericolo per le comunità e per le coltivazioni. Un intenso lavoro difficile da realizzare nel suo complesso, in considerazione anche della vastità del territorio, come sottolineato dal Presidente del Consorzio di Bonifica, Beniamino Curcio. La stagione sta quasi per finire. Non tutto quello che riusciamo a fare è sufficiente rispetto ai fabbisogni che esprime il territorio. A Teggiano, per esempio, questo è un canale molto importante che arriva fino al fiume Tanagro. Abbiamo avuto anche qualche problema, nel senso che, essendo molto lungo, ci sono alcuni proprietari che si sono spinti con le coltivazioni fino al ciglio del canale. Abbiamo dovuto un po' comediare delle situazioni, però, insomma, alla fine c'è stata questa grande disponibilità anche da parte del territorio di darci una mano. Sono interventi complicati, complessi, che richiedono spesso l'intervento anche di più mezzi nello stesso momento, nel senso che bisogna prima decespugliare e poi magari fare il ricavamento. A San Pietro abbiamo fatto un bel lavoro sul fosso del Molino, abbiamo fatto degli interventi su diversi controfossi, per esempio a Buonabitacolo abbiamo fatto un controfosso del Piglio, un intervento che non si faceva da circa 20 anni. Abbiamo aperto altri canali, quindi che erano quasi occlusi, sempre perché, insomma, abbandonati da diverso tempo. Qual è il problema? Il problema è che il Consorzio di Bonifica è chiamato a gestire e tenere in manutenzione circa 600 chilometri di reticolo idraulico. Quando parliamo di reticolo idraulico, certamente parliamo di corsi d'acqua, parliamo soprattutto di canali di bonifica, sono 136 i canali di bonifica proprio di competenza del Consorzio, e parliamo poi anche di quel reticolo secondario che è formato dalle cosiddette lame fossi interpoderali e stiamo intervenendo anche a carico di questi canali, chiamiamoli minori, questo reticolo minore, perché spesso è essenziale, nel senso che se non funzionano questi reticoli più piccoli, poi alla fine, insomma, un intervento anche importante, rilevante, fatto in un canale principale, non avrebbe la stessa efficacia perché è tutto il bacino che va sistemato. Il vero problema è che, come dicevo prima, il territorio esprime un grande fabbisogno di interventi. Noi riusciamo a destinare per la manutenzione 200-300 mila euro all'anno, facciamo questo lavoro grazie ai contributi che pagano i consorziati, e la Regione, insomma, alla fine non ci viene incontro.